Mimmo, Mimmo alveggiato, quindi Marco sta al momento e voi siete già pronti, adesso ci arriviamo Non ci sperare neanche, non ci pensare neanche Sentiamo Mimmo però prima Appartenendo diciamo allo stile, li ho conosciuti nella fase academy e avrei voluto averli con me in squadra Ci dispiace I ragazzi hanno grande talento e soprattutto lui, lei è molto brava tecnicamente, è difficile trovare maschi forti come lui, potenti nella coppia Mimmo mi sa che però questa gioia tua andrà a scemare, perché guarda lì che sta succedendo Posso fare una domanda? Tim Giallo, occhio perché è una domanda importante, cosa avete intenzione di fare? Con lo steam! Mimmo di questa nuova